Questo è il frigorifero e io ho interrotto l'audio quando dovevo dire rumore di fondo. Rumore di fondo, mannaggia i pescetti ragazzi, vi giuro, poteva essere una recensione bellissima e attacca al frigo in cucina. Che coglioni! Insomma ragazzi, il film di stasera, avevo già spoilerato un po' di cosette, vi avevo dato degli indizi, ma nessuno di voi è riuscito a coglierli, mannaggia i pescetti. E insomma, il film di stasera è Chi ha incastrato Roger Rabbit, il film della Disney del 1988, che è uscito probabilmente lo stesso anno che uscì Oliver & Company. L'anno dopo uscì La Sirenetta, giusto per intendersi. Beh, che dire, beh, che dire. Praticamente, come era la mia situazione riguardo il film? Allora, il film ce l'ho in videocassetta, l'avevo visto una volta da bambino, ma non mi interessò tantissimo. E ve lo posso confermare uno, perché mi hanno confermato i miei che da bambino non mi ha mai attirato, non mi piaceva. E due per il fatto che da bambino avevo solo due ricordi a cazzo, così, di questo film, che è proprio roba per la serie. Mi ricordo due fotogrammi completamente fuori contesto e non mi ricordo nemmeno se è vero. Quindi si può dire che averlo visto stasera per me è stato probabilmente come se fosse stata una prima visione, perché... Cioè, ragazzi, sono abbast... Presumo che se il film l'hai visto una volta, ma non te lo ricordi per un cazzo, proprio niente, come a dire, non l'hai mai visto, presumo che rivederlo seriamente anni dopo valga come prima visione. Quindi possiamo contare questa come la prima vera visione di Roger Rabbit. E insomma, beh, di che cosa posso dire di questo film che ha vinto quattro premi Oscar? Allora, io direi che possiamo partire leggendo la trama che c'è dietro la custodia della videocassetta. Allora, quello che dice la trama della videocassetta è... Il talento di Steven Spielberg e Robert Zemeckis, insieme a Touchstone Pictures, hanno creato per voi il più grande successo di tutti i tempi, che ha incastrato Roger Rabbit. Vincitore di quattro premi Oscar, osannato dalla critica ed acclamato dal pubblico di tutto il mondo, che ha incastrato Roger Rabbit, è la storia di un uomo, una donna e un coniglio avvolti da un turbinoso vortice di guai, un'esperienza al di là della più fervida immaginazione. Non avete mai visto niente di simile. Ragazzi, è finito qui. Non vi dice la trama, non vi dà un incipit, non vi dice niente. La custodia del VHS è letteralmente... Compra e guarda da solo che cos'è. Non ti diciamo la trama, devi scoprirlo da solo. Poi, in un'epoca dove internet non era ancora alla portata di tutti, che fai? Vai in un internet point e cerchi la trama? Cioè... Troppo costoso. Compra direttamente il VHS della Disney a 400 euro. Sto scherzando, un saluto alle forze dell'ordine. Insomma, ehm... Beh... Allora ragazzi, io posso dirvi che il primo impatto con questo film è stato... Porca puttana, questo film è una bomba. È una fottuta meraviglia. Come cazzo è possibile che da bambino questo film mi facesse schifo? Però poi ho pensato che tutto sommato da bambino avevo dei criteri di valutazione del cazzo per valutare film. Perché Lili e il Vagabondo, che è un film fatto con un sacco di impegno e fatto benissimo, da bambino non mi piaceva perché i protagonisti sono cani, quindi non mi piace, il film è brutto. Cioè, i protagonisti sono cani, quindi il film è brutto, non mi piace. È un po' come... È un po' come è stato Roger Rabbit. Allora, non voglio spoilerarvi troppo per il fatto che effettivamente credo che questo film sia un'esperienza da godere. So che suona malissimo, ma credo sia un'esperienza che merita vivere per conto proprio. Quindi, sì, spoilererò un po' di cose a malincuore, però comunque consiglio pienamente di guardarlo se non l'avete visto. Non fate come me, che da bambino lo schifavo a prescindere perché, boh, forse perché c'era una storia effettivamente seria e quindi è per quello che non mi prendeva. Cioè, o forse sai cosa? Forse sai cosa? Perché da bambino vedevi i cartoni animati, ma poi li vedevo misti a persone vere e forse mi mandava in confusione. Forse da bambino mi mandava in confusione il fatto che ci fossero cartoni animati e persone vere nello stesso film e non riuscivo più a capire sotto che occhi dovevo guardare questo film. Se dovevo vedere un film vero o dei cartoni animati e quindi mi andava in pappa al cervello e non capivo che cazzo pensare. Quindi forse è per quello. E poi anche perché la storia è effettivamente seria, cioè, seria fra virgolette, insomma, lì il succo generale è relativamente serio. Cioè, ragazzi, nel film muore gente. Nel film muore gente e non a livelli di come abbiamo visto della Disney, tipo Il Re Leone, a parte Il Re Leone è venuto molto dopo. Tipo Il Re Leone, vabbè, buttato giù dalla rupe, oppure altra gente, tipo la mamma di bambi, sai, che le sparano, però si vede, però non si vede, si intuisce, ma non si vede, eccetera, eccetera. In questo film c'è gente che muore perché letteralmente gli sparano e si vede che gli sparano. Cioè, c'è delle morti anche dirette, cioè, moriranno sì e no tre personaggi in tutto. Quante morti ci sono? Aspetta. Una, due, tre, quattro, quattro più cinque, nove, oddio, nove, più uno che era già morto dall'inizio, nel passato, dieci. Cioè, abbiamo un totale di dieci morti nel film. Porca puttana! Non pensavo che morisse così tanta gente! Ok, film Disney, signori, film Disney. Va bene, insomma, beh, che dire. E praticamente il protagonista di questa storia è questo nostro investigatore privato, il nome Eddie, che da buon, da buon, come si chiama, come si dice, non mi viene il termine ragazzi, sono le due e un quarto di notte. Da buon discepolo di italiani, da buon signore antenato di italiani, come cazzo lo dico? Insomma, da buon italiano. Che da buon italiano, invece che pagare il biglietto per la tramvia, letteralmente si attacca dietro e scrocca un passaggio insieme a tre figlioli che tra l'altro gli offrono delle sigarette e lui le accetta. Ma va bene, a parte questo, insomma, è questo investigatore di nome Eddie che un tempo era poliziotto di questa città che era Cartunia, in originale Toontown, che si è ritirato dal suo lavoro dopo che suo fratello è stato ucciso da un cartone animato perché gli è stato fatto piovere un piano addosso. E lui si era cavata con un braccio rotto mentre suo fratello è proprio morto, schiacciato dal piano. E quindi da quel momento lui ha un odio verso i cartoni animati, li odia con tutto se stesso, non li riesce a sopportare quella. Infatti quando gli viene chiesto di fare alcuni lavori, lui già gli gira il cazzo perché sa che dovrà trovarsi attorno a Cartunia animati. Però cioè, non è che li odia proprio tutti, cioè per dire, Betty Boop, oh Fra, stai bene, come va il lavoro? Eh sai, le cose sono un po' andate male da quando sono arrivati i cartoni a colori, però ehi me la cavo, sono diventata cameriera, ci sto bene. Insomma, con Betty Boop è amichevole, dai. Sì ragazzi, c'è Betty Boop in questo cartone, cioè fate conto che questo cartone è l'Infinity War dei cartoni animati, è il mega crossover dei cartoni animati. Infatti c'è molti cartoni di molte epoche, di varie casi produttrici, cioè abbiamo letteralmente Bugs Bunny accanto a Topolino, e Paperino che suona il piano assieme a Duffy Duck, e su cui la Lu si è sbadigliato, e di questo parleremo dopo. Sì, parleremo dopo del fatto che la Lu si è sbadigliato. Insomma, chi è Eddie lo sappiamo. Poi invece c'è Roger Rabbit, che è questo coniglio completamente schizzato fuori di testa, che a quanto pare non lavora molto bene, gli manca un po' la vena creativa, e infatti si scoprirà che, per l'appunto, Jessica Rabbit, che adesso è che, ragazzi, non credo di dover spiegare chi sia Jessica Rabbit, è letteralmente la figona, tettona, culo, grande quanto una casa, che... Cioè, credo sia stato il primo amore di tanti noi ragazzini tredicenni arrapati, Jessica Rabbit, prima che arrivasse Lola Bunny che ci trasformasse tutti quanti in furri. Ma comunque sia, e comunque, tra l'altro, ragazzi, fan fact, Lola Bunny è nata proprio per il film di Space Jam. Prima di Space Jam Lola Bunny non esisteva, ecco. Non so se lo sapevate oppure no, ma nel caso adesso lo sapete. Insomma, Insomma, e niente, si scopre che, insomma, Jessica gli fa un pochettino le corna con il capo dell'Akme, che per appunto è quest'uomo incredibile, sempre in mena di scherzi, che crea cose di qua e di là. Infatti, chissà perché nei cartoni animati l'Akme, soprattutto nella Warner Bros, l'Akme è sempre quella che ha tutti i gadget strani, e chissà perché. Perché, tra l'altro, ragazzi, altro fan fact, l'Akme ha deciso di chiamarsi così perché appariva molto prima negli elenchi telefonici. Perché si partiva dalla A, quindi Akme appariva quasi subito. Ed era più facile da trovare, per questo si erano chiamati così. Credo che il nome originale non fosse quello. Insomma, e... Succede che, insomma, dopo che Roger ha scoperto che... Stavo per dire Lola. Dopo che Roger ha scoperto che Jessica gli fa le corna, insomma, va via, si dispera, sta lì a piangere se addosso, soltanto che il giorno dopo si scopre che il direttore dell'Akme è stato ucciso! È stato ucciso da un nano armato di ascia! Insomma, no, gli è stata fatta piovere una cassaforte in testa. E... Insomma, ragazzi, basta fare 2 più 2 per capire che è solo un cartone animato avrebbe potuto gettargli una cassaforte addosso in quella maniera, soltanto che non si sa chi sia stato. E tutti i sospetti ricadono sul Roger. Perché, per l'appunto, dopo aver scoperto che la moglie gli faceva le corna con lui, in un momento di rabbia deve aver preso e aver l'ammazzato. Soltanto che, anche nel mondo dei cartoni, cioè anche tra i personaggi dei cartoni, c'è molti dubbi, molti quanti... Molti... molti qua. Ragazzi, se volete sentire... Se volete sentirmi dire delle parole belle, delle combinazioni di parole belle, delle quasi crasi bellissime, dovete farmi parlare dopo le 2 di notte. Insomma, anche molti cartoni sono lì che si dicono non è possibile. Roger è schizzato, ma non farebbe mai del male alla mosca. Posso garantirti che non l'ha ucciso lui, ti posso pagare per indagare, ma posso garantirti che non è stato lui, insomma. Si scopre che, per l'appunto, il capo dell'Arcme aveva un testamento, aveva un testamento che è importante alla storia. E quindi, insomma, tutta la storia girerà attorno al ritrovare il testamento e dimostrare che Roger è innocente. Perché, infatti, poi Roger si ritroverà in casa di Eddie. E quindi, vabbè, da qui nasce, da qui inizia il rapporto di Eddie odia a Roger e così via, ma più va avanti e più si affezionerà, più gli vorrà bene. Niente, il succo della storia è trovare il contratto per salvare, in modo dei cartoni, per salvare il culo di Roger. E, probabilmente, farlo, invece, fare il culo a questo tizio mezzo nazi, mezzo uomo della Gestapo, perché, praticamente, si scopre... vabbè, insomma, vi posso soltanto dire che lui è il cattivone cattivone, ma si capisce fin da subito. E qui faccio un attimino un paio di spoiler. È molto bello che io ci ho dato quasi fin da subito... Questo è proprio spoiler pazzo per il finale, quindi se non volete ascoltare, o tappatevi le orecchie per un minuto o due, oppure, se siete da YouTube, schippate al punto che vi indico. E mi sento molto fiero di aver capito quasi subito che il cattivone era un cartone animato anche lui. Perché, se siete attenti, potete accorgervene fin dalla sua prima scena, perché quando uccide la scarpa buttandola in questa sorta di acido, di questo smacchiante, perché è l'unico che ha trovato un modo per uccidere i cartoni animati. Cioè, non puoi uccidere un cartone animato, ma lui ha scoperto un modo ed è gettarlo in questa vasca di diluente. Perché, appunto, sono disegni fatti a china e i disegni li sciogli con il diluente. Quindi è giusto che un cartone muoia così. E già dal primo incontro puoi intuirlo, perché si mette un guanto prima di immergere la scarpa dentro il liquido. E quindi già lì potresti dire, si è messi in guanto, perché, dato che lui è un cartone, se ci avesse messo la mano anche lui, si sarebbe sciolto anche lui. Però questo è un dettaglio che, alla prima visione, o sei un genio o non lo cogli. Però, alla prima visione, già ho intuito che c'era qualcosa che non andava, perché quando uno di questi barattoli di acido è stato gettato a terra, lui è stato il primo a cercare di allontanarsi e di non toccarlo. Quindi mi sono detto già da lì, lui si è allontanato anche per primo. Vuoi vedere che lui è un cartone? Che questo seminazzista da due soldi è un cartone sotto copertura? E il terzo indizio, pieno pieno, è praticamente quando lui sta scivolando su delle palline da golf, però non scivola subito, resta tipo, fra virgolette, a mezz'aria per un secondo e da lì puoi capire, lui è un cartone, ancora prima che te lo riveli, infatti poi si scoprirà che lui è il personaggio dei cartoni che ha effettivamente ucciso sia il tizio, sia il capo dell'ACME, sia il produttore della RK Cartoon, ma è qualcosa di simile, che anche lui è un personaggio che serve e è lo stesso che ha pure ucciso il fratello di Eddie. Quindi ora scusatemi, devo far scendere la Lucy dal divano. Bravo! Ora ti ha ancora un portagatta. Allora, vuoi attraversare? Brava, brava. Non venire a graffiare la porta quando poi ritornerai qui. Sapete cosa? Già che sono in salotto non approfitto per bere. Ricordatevi di bere star idratati. Se non avete bevuto acqua non potete continuare con l'ascolto di questa recensione. Fammi vedere se ho saltato qualche pezzo importante. Cosa ho scritto qua? Ah sì, vabbè, cosa l'ho scritto. Ah sì, vabbè, ho dimenticato di dire che la storia è basata sul libro Who Censured Roger Rabbit? Che sarebbe chi ha censurato Roger Rabbit. Non so che differenze ci siano dal libro. So che c'è la sezione su Wikipedia, ma non avevo sbatti di aprirla. Non volevo mettermi a fare confronti. Anche perché effettivamente il libro non l'ho letto. Quindi, non posso fare veri confronti se non menzionare ciò che c'è scritto su Wikipedia. Già che la Lucy si è tolta, rimettiamo il cuscino, il suo cuscino nel mezzo del divano. E insomma, niente, si scopre che il Nazi è praticamente lo stesso che ha ucciso anche il fratello di Eddie. E quindi, alla fine, vabbè, alla fine si riuscirà a salvare il culo a tutti quanti. Il Nazi muore sciolto dallo stesso acido di sua invenzione. E si scoprirà alla fine che il contratto in realtà Roger ed Eddie ce l'avevano fin dall'inizio, ma non avevano capito che era il contratto perché era scritto in inchiostra invisibile e quindi sembrava tipo un foglio bianco senza nulla dove Roger per l'appunto ci aveva riscritto la lettera d'amore a Jessica. E infatti poi verso la fine si riuscirà a leggere che finalmente quello è il contratto hashtag sono tutti salvi tutti felici e contenti. E niente, mi è piaciuto molto cioè ragazzi io non capisco com'è che oddio, finalmente in parte capisco perché da bambino potrebbe non avermi catturato il film forse perché era troppo un casino da seguire perché per me e forse ero anche troppo piccolo forse ero anche troppo piccolo secondo me questo è un film che apprezzi quando sei più grande ma non solo sei più grande hai anche una comprensione molto più ampia del mondo dell'animazione di come si è svolto il mondo dell'animazione non chi sono ma anche chi sono stati i personaggi più importanti dell'animazione e così via credo che se non hai un background storico culturale sul mondo dell'animazione non potresti apprezzare appieno questo film infatti c'è molti personaggi che so che sono esistiti ma alcuni non mi ricordo neanche i nomi c'è tipo questo pagliaccio che so che questo pagliaccio è un personaggio importante nella storia dell'animazione ma non mi ricordo il nome mi dispiace tantissimo ma non mi ricordo il nome e vabbè Betty Boop è inutile dire che si riconosce perché tanto Betty Boop fra virgolette è sopravvissuta fino ai giorni nostri ancora oggi in qualche bar vedi la statuetta di Betty Boop che riemula la posa di Marilyn stavo per dire Marilyn Manson di Marilyn Monroe nella famosa scena dove passa sopra la grata e si copre dai e e nulla e vabbè Jessica Rabbit è fatta apposta per essere la figona tettona quando ha detto la frase non sono cattiva mi disegnano così mi è venuta in mente le ragazzine che fanno le fighe mettendo la citazioncina di Jessica Rabbit non sono cattiva è solo che mi disegnano così quando queste tizie magari non sanno nemmeno da dove venga Jessica Rabbit sono potuto scommettere che se chiedi a una di queste e le chiedi da dove viene Jessica Rabbit non te lo sanno dire o magari o magari sanno dirti che viene da Roger Rabbit ma non sanno nemmeno magari non l'hanno neanche visto il film ma va bene fatemi vedere un attimo oh mio Dio oh mio Dio l'immagine su il retro della custodia l'immagine su il retro della custodia del VHS è letteralmente spoiler della scena finale Dio santo va bene capisco che quando i film non l'hai visto possono farti vedere anche la morte del cattivo oddio magari no ma qualche scena finale fuori contesto e va bene non ci fai caso ma porca puttana cioè ragazzi io non dimenticherò non dimenticherò mai se non sbaglio il film era Violent Cop il cui titolo originale effettivamente attenzione quest'uomo estremamente violento e il titolo inglese è Violent Cop dove se non mi sbaglio nel trailer ti fa vedere letteralmente il buono che spara il cattivo lo ammazza cioè letteralmente nel trailer ti mette già la scena finale capisco fuori contesto ma che cazzo che poi Violent Cop è anche un film che ha tutta l'atmosfera dove ti potresti dire questo potrebbe anche essere uno di quei film dove il buono non vince e il cattivo ne esce sovrano cioè perché ricordate ragazzi i film essendo un film asiatico non c'è asiatico un film orientale essendo un film orientale capita spesso che soprattutto i film orientali non finiscano bene perché se prendete il film americano in genere il film americano finisce sempre bene perché il cattivo è qui ma possiamo sempre vincere il cattivo no a volte il cinema orientale letteralmente ah sì sei figo ma ho vinto io vinco io uguale anche se mi uccidi vinco io insomma il cinema orientale ha molti più cattivi rispettabili di cattivi americani cioè vogliamo parlare di qual era vendicami se non sbaglio cioè non ne stiamo a parlare ragazzi non ne stiamo a parlarne insomma ci stiamo divagando dobbiamo restare su chi ha incastrato Roger Rabbit no ragazzi io ho poggato dall'inizio alla fine di questo film cioè ero catturato ero estasiato da questo film è fottutamente bellissimo e parlando dell'aspetto visivo ragazzi ma vogliamo parlare dell'aspetto visivo cioè solo la prima scena iniziale la prima sequenza iniziale era una bomba a livello di animazione e c'è stato delle scene che mi sono detto queste qui deve per forza averle fatte non mi ricordo il nome perdonatemi queste qui devono averle per forza fatte fare al tizio che poi ha fatto il ladro e il ciabattino perché a quell'epoca ci stava lavorando mi ricordo di aver visto quel video 151 Egg che spiegava la storia del ladro e il ciabattino e questo regista ci ha lavorato tutta una vita questo film ci ha lavorato tutta una vita da quando è uscito Biancaneve fino a fine anni 90 anche ai primi 2000 quest'uomo ha sempre solo lavorato a quel film di cui poi vi farò una recensione come si deve infatti sì la Disney giustamente aveva detto guarda possiamo aiutarti a fare il ladro e il ciabattino però prima te ci aiuti a fare che ha incastrato Roger Rabbit e secondo me devono avergli affidato una delle prime sequenze perché c'è questa scena nella cucina dove tutto è in movimento dove il pavimento è fatto a scacchiera e mi ha ricordato un fottio una delle scene che c'è nel ladro e il ciabattino e mi sono detto soltanto questa devono averla fatta fare a lui non c'è verso solo a quel tizio possono averla fatta fare e insomma poi vabbè per quanto riguarda il ladro e il ciabattino poi i film sono successo l'hanno aiutato a fare altre scene ma poi come al solito ehi costa troppo dobbiamo finirla quindi non la ci ha messo anni a fare il ladro e il ciabattino ma va bene cosa c'è scritto qui no e vabbè il film è in tecnica mista come se non si fosse capito il film è in tecnica mista c'è cartone animati sovrapposti a live action e così via una cosa incredibile fatta benissimo per essere poi all'88 ragazzi per essere l'88 io ho visto delle cose che quando l'ho vista mi son detto cioè ma ok nell'88 la Disney ce l'aveva la CGI ma non era a questi livelli quindi come cazzo l'hanno fatta alcune scene ragazzi c'è delle scene dove come l'hanno chiamata in italiano le faine sono le weasles che credo siano le donnole però penso che per ragioni di doppiaggio e di tempistica le abbiano chiamate faine tengono in mano queste pistole ma le pistole sono vere sono pistole reali messe in mano dei personaggi animati e quando io l'ho vista la prima domanda che mi son fatto è come cazzo hanno fatto a far tenere in mano delle pistole vere a personaggi dei cartoni come cazzo hanno fatto nell'88 perché non poteva esserci una persona lì a tenerle perché la fisionomia del personaggio è troppo differente e si sarebbe visto un braccio o qualcosa non poteva essere un braccio meccanico perché si muovevano troppo fluide quindi come cazzo l'hanno fatte a quanto pare wikipedia potrebbe avermi dato la risposta da quel che ho capito le pistole erano attaccate tipo con dei fili e sopra c'era gente che tipo burattino marionetta muoveva la pistola in base a come la doveva muovere il personaggio e poi dopo ci hanno ridisegnato il personaggio ma così è come funzionava la tecnica mista stile mary poppins e quindi è nulla cioè ragazzi io anche solo per come hanno gestito le pistole in mano alle faine devo solo battere le mani perché quello è stato un pezzo che fin dalla prima visione mi sono detto come cazzo lo hanno fatto cioè ero veramente lì che mi chiedevo come lo hanno fatto e quindi complimentoni Disney complimentoni Disney poi vabbè tutto disegnato in maniera impeccabile mi è piaciuto un fottio riconoscere un sacco di personaggi anche da tanti dei film della Disney cioè ho riconosciuto gli struzzi e gli ippopotami del giardino delle ore di fantasia ho riconosciuto verso la fine si vede per una frazione di secondo se hai un buon occhio lo riconosci ma credo fosse l'aeroplanino di Saludos Amigos credo fosse l'aeroplanino di Saludos Amigos o dei tre Cavalleros perché in uno di quelli c'era un aeroplanino c'era la storia di un aeroplanino ma credo che fosse Saludos Amigos credo che fosse quello sì sì perché ok non stiamo a infognarci troppo era comunque o quello o i tre Cavalleros quindi nulla non posso che battere le mani e intanto c'è un piccolo easter egg ho notato un piccolo easter egg in una stanza quando Eddie arriva a Cartunia ed è inseguito da questa versione brutta di Jessica Rabbit che lui si nasconde in questo bagno ma poi vabbè si accorge che non c'è pavimento e precipita di sotto ma nel bagno c'è tipo una scritta sul muro una delle solite scritte ehi sono sono chiara 28 anni questo è il mio numero se vuoi fare qualche cosetta zozza c'è tipo scritto Alison Wonderland o qualcosa di simile e credo sia una battuta per fare un'assonanza a Alison Wonderland che Alice nel paese delle meraviglie e credo che sia ancora più fatto apposta per il fatto che la maniglia della porta del bagno è esattamente la maniglia della porticina di Alice nel paese delle meraviglie devi avere un buon occhio per notarlo ma credo che sia fatto pienamente apposta e quindi nulla cioè ragazzi questo film è la goduria se volete mettervi lì a riconoscere tutti i cartoni poi c'è quelle due tre piccolezze che dovete avere veramente occhio per notarlo oppure mettere il film in pausa un paio di volte rispondare un attimino indietro e rivedere la scena però comunque è molto molto gradevole da vedere non ho ben capito chi fosse il cartone cattivo che si era vestito da nazista non ho ben capito chi fosse anche perché nel film non viene spiegato cioè nel film viene semplicemente lasciato lì con un chissà chi era sicuramente un cartone che ha perso la testa eccetera eccetera ora non so se nel libro questa cosa viene detta anche perché da quel che ho capito il cattivone nazista non c'è nel libro presumo ma ipotizzando che ci sia cioè io presumo cioè la mia teoria e qui si parla solo di teorie personali magari poteva essere un cartone che è stato dimenticato e quindi era tipo fra tanto nessuno sa più chi sono posso fare il cazzo che mi pare non me ne frega più niente quindi boh boh e vabbè ma questa è soltanto teoria cioè non mi vengono in mente cartoni che potrebbero essere così dimenticati cattivissimi quindi boh cioè ci sarebbe Oswald ma Oswald poi la Disney ha ripreso i diritti non era non era così stronzo il personaggio era palesemente completamente diverso da Oswald quindi il mio coniglietto patatoso è al sicuro e niente per quanto riguarda la musica vabbè ragazzi la musica non devo dire assolutamente nulla la musica non devo dire assolutamente nulla perché è estremamente casante poi è molto bello riconoscere alcuni motivetti perché persino nella musica hai quella scintilla nella testa che ti fa dire questa la conosco viene da questo questa la conosco è quella dell'Unitoons Apparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapa. E non ragazzi, anche la musica è perfetta, credo sia una combinazione incredibile, cioè la storia va bene, è coinvolgente. Di aspetto visivo il film ti tiene inchiodato allo schermo, per il livello musicale, il film ha una colonna sonora che è veramente eccelsa. e quindi nulla cos'altro devo dire perché alla fine mi sono appuntato qualche nota così tipo che il film l'ha iniziato nell'82 8, meno 2, 6 ci hanno messo 6 anni per farlo e sì, ci fu il fatto che nel film c'erano fra virgolette molte scene che erano a sfondo sessuale davano allusioni sessuali soprattutto con la nostra cara Jessica sai che fai metti un personaggio che è letteralmente che è letteralmente la donna perfetta e non la sfrutti cioè sei scemo infatti all'inizio la Disney non voleva tante scene così tra virgolette troppo allusore non voleva troppe scene che alludevano a una natura sessuale quindi sai come hanno fatto? semplicemente hanno detto sai cosa? invece di scriverci distribuito dalla Disney scriviamo distribuito dalla Touchstone Pictures così ci dobbiamo tutti i problemi come a dire e guarda noi abbiamo fatto i film però non ci prendiamo tutte le responsabilità eh non possiamo mettere il nudo non si può mettere il nudo però fai morire 10 personaggi dai insomma e niente va bene va bene 10 personaggi e 6 sono cattivi ma va bene ma no c'è c'è una macchina che c'è una macchina che è passata sotto casa mia sono le 2.40 di notte e c'è gente che viaggia per strada ma non ci sarebbe un cazzo di coprifuoco? non ci dovrebbe essere un cazzo di coprifuoco chi cazzo è che va in macchina alle 2.40 adesso? cioè già di già normalmente ma ora che c'è un coprifuoco cioè è l'ora perfetta che ti sgamano coglione cioè va bene va bene tralasciando ciò tralasciando ciò e a quanto pare ho letto da Wikipedia perché il cattivo cioè la scena dove si è rivelata la natura del cattivo mi ha ricordato un altro cartone che ho scoperto essere ispirato a Roger Rabbit e questo cartone è Bonkers Gatto Combina Guai questo Bonkers Gatto Combina Guai l'ho visto perché Andrea il nostro caro Forà il nostro caro ex cartoncino Bristol ex Dingo Guardingo attuale Pingulo Sbirru mi ha fatto vedere la sua videocassetta che custodisce gelosamente perché era un cartone allucinato che guardava da bambino parole sue e niente Bonkers è questo gatto mezzo di fuori cioè diciamo che è pienamente ispirato a chi ha incastrato Roger Rabbit anche quando si scopre che il cattivo è un cartone animato le non puoi più negare che è ispiratissimo anche se credo che Bonkers sia però tutto cartone animato penso non vorrei dire una stronzata ma credo che fosse tutto cartone animato forse oddio forse c'erano fra virgolette degli esseri umani ma erano comunque disegnati a cartone e quindi nulla ho visto il un prodotto ispirato a Roger Rabbit prima di vedere effettivamente Roger Rabbit e quindi nulla ora siamo a parlare del doppiaggio siamo a parlare del doppiaggio adattamento allora prima parliamo dell'adattamento e la fine fine è stata adattata molto molto bene non ho capito che cosa dica Roger in inglese al posto di mannaggia ai pescetti però cambia poco cambia poco dice qualcosa ma non ho capito bene che cosa perché lo dice molto veloce e molto sbiascicato però comunque sia i dialoghi sono tradotti bene e alla fine nelle poche cose cambiate a livello di doppiaggio di adattamento sono delle delle piccole cosette culturali cose che se le traducevi alla lettera in italiano non ci sarebbe stata la cultura per capirle e quindi cambi la battuta ad una cultura italiana di quel in inglese è tipo qualcosa del barbiere mentre in italiano è ammazza la vecchia col flip quindi a parte a parte già che ci cantano le canzoni con ammazza la vecchia col flip ammazza la vecchia col gas ci credo che siamo cresciuti violenti cioè sono i videogiochi a renderci violenti genitori smetti di giocare ai videogiochi ti rendono violento sempre i nostri genitori quando eravamo sei anni ammazza la vecchia col gas insomma ok boomer spero che con questo ok boomer possa aver triggerato qualcuno dei vostri assistenti vocali di google perché quando dico ok boomer attivo l'assistente vocale del telefono di andrea quindi boh tutte le volte che lui è a casa mia io potrei dire ok boomer il suo telefono inizia a cercare ma va bene mentre a livello di doppiaggio a livello di doppiaggio sono tutti e due doppiaggi molto molto validi e c'è un po' di pecche con il doppiaggio inglese c'è un po' di cioè scusa con il doppiaggio italiano c'è un po' di pecche con il doppiaggio italiano che adesso ve le elenco ossia il fatto che alcuni personaggi dei cartoni come Duffy come Duffy Duck Bugs Bunny e qualcun altro e qualcun altro in italiano non hanno i loro doppiatori originali e questa cosa mi urta nel profondo mi urta nel profondo sentire Duffy non parlare con la sua voce anzi potrei insinuare che il doppiatore di cose il doppiatore di Roger sia effettivamente il doppiatore di Duffy ma non ci vorrei mettere la mano sul fuoco il doppiatore di Topolino è lui però mi urta che alcuni personaggi non siano doppiati dai loro doppiatori italiani originali questa cosa un po' mi urta nel profondo magari all'epoca erano effettivamente doppiati da altra gente magari nell'88 quando è arrivato il film in Italia non credo ci sia scritto qui stampato in Italia edizione ottobre 2002 almeno il VHS che ho io è del 2002 ma non credo che nel 2002 le voci fossero così differenti è vero che nel tempo i doppiatori cambiano però boh e Roger invece mi piace molto di più l'inglese l'inglese mi piace molto di più perché in italiano gli hanno dato una vocina che per me è tipo un pochettino troppo fra virgolette stupida secondo me gli hanno dato una voce lievemente troppo stupida comunque ascoltabile però lo preferisco in inglese lo preferisco tantissimo in inglese ciò nonostante probabilmente preferisco il doppiaggio italiano nonostante queste due piccole pecche credo di preferire molto di più il doppiaggio italiano consapevole che alcuni personaggi non hanno i loro doppiatori originali e che Roger è un pochettino più scemo di voce di voce sembra un pochettino più scemo ma ciò nonostante preferisco il doppiaggio italiano non so perché forse perché l'ho visto prima in italiano ma va bene 40 minuti 40 minuti sì ragazzi lo so che probabilmente avrei potuto parlare per ore di come questo film sia un capolavoro di come abbia cambiato un sacco di cose nel mondo dell'animazione cioè fu un successone al botteghino cioè i budget era altissimo non mi sono scritto ma il budget era altissimo e hanno fatto tipo campione di incassi era tipo il decimo film campione di incassi a livello mondiale di quell'anno se non mi sbaglio o comunque era nella top 10 e forse fu primo di incassi in Italia ma non vorrei dire una stronzata quindi adesso finisco perché ho detto effettivamente tutto e probabilmente la Lucy sta graffiando la porta perché vuole rientrare in salotto adesso le apro e cerco di non sbattere la porta in faccia quindi ragazzi e lo so potrei parlare per ore di quanto Roger Rabbit sia un film che ha rivoluzionato un po' l'animazione però non sono lo faccio perché ho effettivamente la decenza di dire che non sono abbastanza acculturato sull'argomento e voglio evitare di dire stronzate per quanto possa voglio evitare di dire stronzate quindi se devo parlarne in maniera molto più approfondita mi assicurerò di informarmi molto meglio non come accadde per la recensione del re leone dove un paio di stronzate le ho dette quindi e niente qui è Rob Barraven che sono le 2 48 di notte e vi saluta bella